Il tema della Movida continua a far discutere ma ora i residenti dell'Associazione Cittadini per il Centro Storico fanno sul serio e sono pronti a chiedere risarcimento al Comune per le notti insonne, per le deroghe continue date per gli eventi. Deroghe, secondo l'Avvocato Claudio Aloisio, Presidente dell'Associazione, date senza margine di tempo e dunque che non permettono a loro di riuscire a dettonare una sospensiva. Un'amministrazione che per loro ignora le richieste e prende anche in giro perché quello che è accaduto in Commissione Garanzia e sottolineato anche da consiglieri comunali di opposizione che hanno stigmatizzato l'atteggiamento del Vice Sindaco Daniele vuol dire prendere in giro la gente. Daniele si è rivolto all'Aloisio in malo modo. Abbiamo deciso di intraprendere la via legale con Romarico dopo aver constatato per l'ennesima volta la chiusura totale dell'amministrazione ad un confronto produttivo e costruttivo e l'atteggiamento di questa amministrazione è denigratorio nei confronti di istanze che vengono dalla società civile, sono sempre più numerose e che in quanto tali dovrebbero essere prese in considerazione in un atteggiamento di rispetto dell'istituzione che questa amministrazione ricopra che evidentemente non ha. L'ultimo episodio che si è avuto in Commissione di Vigilanza questa settimana è stato avvilente per me e svilente per questa giunta, lì dove l'atteggiamento è stato denigratorio e sfottente nei confronti dei consiglieri di minoranza, nei miei confronti addirittura sessista in un contesto sostanzialmente prettamente maschile dove tutti quanti venivano appellati con il rispettivo titolo, ingegnere, dottore, io sono stata definita la signora che li odia perché li vuole denunciare. Allora se questo è il livello dobbiamo spostarci su un altro piano che è quello giudiziario. L'associazione ora non ci sta più e inizia l'azione legale per vedere rispettati i diritti di quelle persone che sono tornate a fatica a popolare il centro ma che ogni giorno sono costretti a sopportare disagi di ogni tipo. Non si capisce la necessità di emanare ordinanze di urgenza il giorno prima dell'inizio dell'evento, addirittura il giorno stesso quest'estate è successo e riteniamo che questa cosa sia gravissima e soprattutto riteniamo che ci siano anche profili penali nell'attività di questa amministrazione, omissioni di atti di ufficio, omissioni di controlli, nonostante le nostre difide, ricordiamo, omissioni di attività sanzionatoria, lì dove vengono riscontrate delle attività illecite e degli abusi. Grazie. 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 Grazie.